Questa volta a fare notizia non sono le dichiarazioni di chi guida la società e dei propri tesserati, come è accaduto durante la scorsa burrascosa estate, è il silenzio del Cerignola invece a fare, tra virgolette, un forte rumore. Un silenzio che per decisione del club ofantino dura già da oltre un mese. Potrebbe essere, per carità, semplicemente una scelta dettata solo e soltanto per evitare proclami e lavorare intensamente sotto traccia. Potrebbe esserlo. Da alcuni giorni però in città c'è una voce abbastanza diffusa. Racconta di una famiglia grieco pronta a fare un passo indietro rispetto al recente passato, ma comunque disposta non a molare tutto bensì a dare il proprio contributo sotto forma di sponsorizzazione con l'azienda di famiglia. Voci che in realtà non trovano tantissimi riscontri. Il legame tra l'attuale proprietà del Cerignola e la società gialloblu è diventato sempre più solido nel corso degli ultimi anni, vissuti tra grandi successi e qualche grossa delusione, come è accaduto lo scorso anno per il mancato approdo tra i professionisti. La sensazione è che la storia sia destinata a proseguire pure in futuro, anche se l'approdo in Serie C, come appare al momento molto probabile, non dovesse concretizzarsi nuovamente. La piazza, nel frattempo, attende però un segnale chiaro dalla famiglia grieco. Lo attendono anche i tesserati del club ofantino, in primis il tecnico Vincenzo Feula, autore di un eccellente percorso da quando ha ereditato in panchina il testimone di Alessandro Potenza. La sua priorità era e resta il Cerignola. Sulla sua scrivania però non mancano proposte ambiziose per la prossima stagione. A quella, tutt'altro che nascosta del Taranto, si sarebbe aggiunta la certificazione di gradimento del Casarano. La parola passa ora ai grieco, toccherà a loro fare chiarezza sulle proprie intenzioni. Una cosa è certa, il Cerignola non partirebbe da zero, ma lo farebbe comunque da una base solida. C'è la priorità di Feula e poi ci sono più di dieci calciatori che hanno firmato un B&A nella scorsa estate o che sono pronti a legarsi nuovamente alla realtà ofantina.